buongiorno giornata impegnativa oggi la mia bimba è sveglia e pronta per andare a fare una passeggiata e un po di commissioni da fare importanti aspettando papà che scelta il bagno mamma si tocca un po bianchina e andiamo a passeggio ciao ragazzi voglio farvi vedere ci sono arrivate delle lenzuola bellissime guardate un po per il lettino della mia piccolina e per il mio lettone mi hanno consigliato questa pagina è sinceramente veramente stringimi più forte amore mio sei bella 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 amore mio che è mamma canta per te canta per te la tua mamma sì ragazzi la mia ballerina guarda amici e non si distrae amore mio sarai anche tu una ballerina sarai anche tu una ballerina sia mamma è vero sì sì guarda guarda sicuro 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 il mio amore come sicuro 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 il posto dove voglio stare con te qui dove vorrei morire stammi più vicino buonanotte io gioco con coniglietto la mia piccolina dorme la mia cappuccetto rosso abbiamo perso tantissimo tempo con i vestiti di carnevale con le chiacchiere adesso abbiamo deciso di non cucinare e quindi ciao a tutti stiamo facendo lezioni di biberon da sole vediamo vediamo un casino si veramente incredibile a mamma si un amore nell'accia tu è buonasera a tutti ciao ragazzi una domanda secca secondo voi chi è più sincera più vera prezzi bassi su di rita o di adriana prezzi bassi su tele sport amore tu stai digitando prezzi bassi su frumaturi c'è babbo che si è adentrato ci so se io mangio il gelato prezzi bassi noi abbiamo tutto questo salto e quindi è veramente prezzi bassi sui mio dio e tipo mangiamo i gelati ragazzi volevo dirvi una cosa perché sono felicissima sono quasi 4 mesi che è nata bianca ed io ho perso già quasi tutti i miei chili senza alcun sacrificio voi sapete grazie all'aiuto di Fittoria mi salutano tantissimo ma la cosa più bella ragazzi grazie a tutti